Ci sono delle persone che sanno che cosa è successo il primo settembre del 2004 e quindi a loro sempre mi rivolgerò dicendo scrollatevi la coscienza, fatelo prima che per voi sarà troppo tardi perché quando inizieranno a scardinare tutto questo lavoro che avranno dietro, ahimè se ci sono quelle persone da portare in evidenza non credo che finirà bene anche per loro, non devono tenere, non devono avere tutta questa paura, oggi dopo 17 anni basta, basta apritevi, basta dite la verità, fate in modo di dirlo in qualsiasi modo possibile come vogliono anche attraverso un prete, il vescovo, in qualsiasi modo ma che parli. Sappiate che chi non parla è perché ha veramente paura, fortemente paura e questa è veramente una cosa molto strana, anomala. Paura di cosa a tuo avviso? Eh, sicuramente c'è qualcosa che li intimorisce e a loro che comunque sono timorosi nel parlare e dire qualche cosa in più, aggiungere un tassello in più in questa nostra vicenda dico a loro di non aver paura, saranno tutelati, ecco questo è importante dirlo, saranno tutelati l'importante è che loro si aprano prima che sia troppo tardi, prima che sia troppo tardi. Per cui la persona che probabilmente si è presentata all'interno dello studio di Giacomo Frazzita come dice la stessa Piera Maggio, sarà tutelata. Certo è che il racconto che può portare un testimone di questo genere potrebbe veramente scardinare tutto quello che noi sappiamo di questi 17 anni. Sentite che cosa dice Piera Maggio ancora, ascoltate. Si sta arrivavvolgendo di nuovo il nastro sempre sulle stesse persone che comunque erano dentro questa inchiesta. Facciamo lavorare la procura, facciamo fare il loro lavoro, vediamo che cosa emergerà. Noi attendiamo una vita. Noi non sappiamo quello che sta facendo la procura, come non sappiamo se realmente sono stati degli iscritti nel registro degli indagati. A noi non è dato saperlo e quindi non possiamo confermare ciò. Noi l'abbiamo saputo attraverso una tv e questo è quello che è a nostra conoscenza e basta. Vorrei essere fiduciosa e cerco di esserlo. Certo le esperienze passate non mi aiutano, quindi oggi sono molto più ponderata. Non voglio più pronunciarmi se prima non vedo dei dati di fatto un po' più concreti. Come ho sempre detto, fino a prova contraria Denise va cercata viva. Se c'è una prova che dimostri il contrario, poi quella sarà un'altra storia. Speriamo noi. Antonella. Abbiamo visto che il termine ricorrente nell'intervista di Piera Maggio è paura. Abbiamo visto quante volte l'ha ripetuto, perché c'era tanta paura allora, 17 anni fa, e purtroppo c'è ancora. Ma oggi se verrà confermato il fatto che questo testimone colari si sia presentato. Questo è veramente un punto di svolta, perché lui intanto ha dimostrato che la paura si può vincere. Dirà delle cose importanti, perché lui ha visto tre persone, le ha riconosciute, quindi farà questi tre nomi. Tre persone che avevano con sé la bambina, la bambina urlava mamma. E poi il suo gesto, io sono sicura che darà coraggio. Coraggio, cioè come ha parlato lui, e comunque facendosi un grande coraggio, perché non è da tutti andare a testimoniare una cosa di questo genere. Io credo che le tante persone di Mazzara del Vallo, che ancora, che sanno sicuramente, ancora non hanno parlato, e anzi hanno finora elencato bugie su bugie, seguono questo esempio. Perché è un esempio, è un modello da seguire. Sì, allora sentiamo, Piera Maggio continua, questa lunga intervista, ai microfoni di Storie Italiane. Ascoltate. Piera, 17 anni senza la tua Denisa. Oggi è una giornata particolare, la giornata in cui si ricordano i bambini scomparsi. Si ricorda tutti i bambini scomparsi, non solo Denisa. Io vorrei che non sia una giornata simbolo, vorrei che si facesse qualcosa in più per tutti questi bambini scomparsi, specialmente per quei bambini che non vengono cercati da nessuno. Le persone hanno imparato ad amare Denisa, forse attraverso quello che io ho fatto vedere dalla mia bambina, dalle foto, ai suoi disegni, alle sue canzoncine, a tutto quello che lei, quel poco, in quei quattro anni che mi ha potuto dare, io l'ho messa a disposizione per far capire un po' quello che era Denisa. Denisa è quella bambina che è stata voluta, non è una bambina, lasciamo perdere, è una bambina che è stata voluta, quindi è amore puro. Denisa è quella bambina che sapeva dare amore e che riceveva amore da noi. Io ricordo la mia bambina come quella donnina, come la chiamavo io, piccola donnina, perché con Denisa io ci dialogavo, facevamo discorsi completi. Come l'immagini oggi, Denisa? Sicuramente una bella ragazza, perché l'immagino proprio una bella ragazza, era bellina quando era piccola, quindi l'immagino una bella ragazza. Ovviamente, quello che ho sempre detto e continuerò a dire, ovunque lei si trovi, io spero che sia felice, che sia amata e sia veramente accolta in una famiglia che gli sappia dare amore quanto noi genitori, quanto noi genitori reali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.